Ciao ragazzi, a tutti io sono Dragongest e oggi 19 gennaio 2023 andiamo a vedere cosa c'è di disponibile nel negozio oggetti di Fortnite. In evidenza abbiamo la grande novità di oggi, Stellan, guardiano della fenditura che poi andremo a vedere nel dettaglio e poi scendendo velocemente abbiamo Arachno e Cavaliere del Ragno nel bundle Arachnide e quindi Belberry nel bundle Crocevia, Cremose e poi Squadra, Mecha delle Ombre, Artigliere Notturno e Archetipo Ombra nel pacchetto Attacco Ombra e poi tra le giornaliere abbiamo Assassino Spartano, Ombra Ammantata e l'Emote Master of Puppets dei Metallica e phew, scendiamo e abbiamo il bundle John Cena ancora disponibile, Uncharted e Armadietto X2 Twins sino ad arrivare giù al bundle delle offerte speciali della Epic dove ragazzi vi dirò la solita frase mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video con gli amici e mettete un mega mi piace torniamo quindi subito su all'inizio eccolo qui in evidenza, Stellan il guardiano della fenditura, andiamo a vedere il bundle abbiamo lui Stellan il guardiano della fenditura, costume raro, eccolo qui un 360 per noi andiamo subito a vedere i suoi stili selezionabili Stellan il guardiano della fenditura e stile con elmo, vedico subito che per quel che mi riguarda ragazzi è una skin un pochettino strana, sembra un po' uno scheletro rivestito con un'armatura non è che mi faccia veramente veramente impazzire avrei preferito un po' più in carne ragazzi mi sembra un po' scheletrico ma va bene, va bene così abbiamo poi il suo dorso decorativo, Stella del guardiano e quindi lo strumento di raccolta, Giuramento del guardiano e Veste del guardiano del barco la copertura ragazzi, bellissima anche questa e poi ancora schermata di caricamento, Veglia del guardiano il bundle ovviamente include una schermata di caricamento che è quella che stiamo vedendo ragazzi 1500 V-Bug per tutto questo bundle ragazzi che secondo me è un prezzo davvero ottimo poi possiamo prendere Stella da solo a 1200 Giuramento del guardiano a 500 e Veste del guardiano del barco a 300 V-Bug scendiamo e abbiamo il bundle Arachnide stupendo ragazzi costume leggendario Cavaliere del ragno il suo dorso decorativo Scudo Antiragno e quindi il costume leggendario Arachno con il suo dorso decorativo Gambe Lunghe ragazzi anche questo leggendario e poi abbiamo lo strumento di raccolta raro Rompitele e il deltaplano Cucciolo ragazzi questo Ragnone che ci porta giù nella mappa e poi abbiamo la copertura tela della vedova anche questo qui molto 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 bella ragazzi è una copertura animata stupenda 3000 V-Bug per tutto questo bundle pensando che ci sono due skin leggendari ragazzi che costano circa 2000 luna beh dai non è poi così malvagio il prezzo però è ancora altino per le tasche di moltissima gente possiamo poi prendere da sola Arachno a 2000 la Cavaliere del ragno a 2000 e Rompitele lo strumento di raccolta ad 800 il deltaplano Cucciolo a 1200 e la copertura tela della vedova a 500 V-Bug scendiamo e abbiamo la simpaticissima Bail Berry nel bundle Crocevia cremoso andiamo subito a vedere Bail Berry il costume raro con più stili selezionabili lo stile Bail Berry e agrodolce occhiali sì e occhiali no torniamo indietro e vediamo il dorso decorativo Bro Lampone i suoi stili selezionabili Bro Lampone e agrodolce e poi abbiamo lo strumento di raccolta Maciullatore fragoloso con più stili selezionabili ragazzi Maciullatore fragoloso e schiantatore agrodolce e quindi la copertura dolce come un lampone bello 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 è reattivo ragazzi stupendo 1700 V-Bug per tutto questo bundle Bail Berry da sola 1200 Maciullatore fragoloso ad 800 è dolce come un lampone a 300 V-Bug scendiamo pacchetto attacco ombra eccolo qui allora archetipo ombra costume della competizione ombra stupendo capitolo 2 stagione 4 ragazzi la loro prima apparizione e poi abbiamo il suo dorso decorativo paradigma oscuro e quindi artigliere notturno ragazzi il 7 è tuoni e fulmini andiamo a vedere il suo dorso decorativo 24 ore poi il bellissimo squadra mecha delle ombre il mecha dei fortnite ragazzi il suo dorso decorativo jet set delle ombre 2800 V-Bug per tutto questo bundle possiamo poi prendere da solo squadra mecha delle ombre a 1500 disistutrici delle ombre combinate ad 800 V-Bug artigliere notturno a 1500 archetipo ombra a 1500 e calibro ombra lo strumento di raccolta a 500 V-Bug eccolo qui stupendo anche distruttrici delle ombre ragazzi eccoli qui non le avevamo viste ma sono veramente belle 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 calibro ombra a 500 V-Bug scendiamo e nelle giornaliere abbiamo la bellissima assassino spartano 800 V-Bug ragazzi capitolo 2 stagione 6 antico eterno il 7 di cui fa parte 800 V-Bug e ce la mettiamo nell'armadietto ragazzi ombra ammantata il costume epico eccolo qui stupendo con il suo dorso decorativo ali d'ombra 1500 V-Bug ragazzi per portarcelo a casa ninja orzetto lo strumento di raccolta raro gli avversari hanno un piede nella fossa prima apparizione stagione 2 800 V-Bug Master of Puppets l'emote bellissima da 500 V-Bug un emote sincronizzata da fare con gli amici bello bello prismatico il deltaplano raro della stagione 1 800 V-Bug ragazzi ed è nostro torniamo indietro e infine abbiamo l'emote fiuu 200 V-Bug ragazzi e l'emote è nostra torniamo indietro scendiamo e abbiamo il bundle John Cena che avevamo già visto precedentemente lo trovate sul mio canale Uncharted idem lo avevamo già visto ieri lo trovate sul mio canale ragazzi Armadietto X2 Twins anche quello lo trovate sul mio canale l'avevamo visto approfonditamente benissimo siamo scesi ai bundle offerte speciali della Epic e non c'è nessun nuovo bundle V-Bug per noi quindi torniamo di nuovo in lobby ragazzi io qui vi saluto vi do appuntamento allo shop di domani mi raccomando attivate la campanellina condividete il video con gli amici iscrivetevi al mio canale e mettete un mega mi piace vi do appuntamento al prossimo video ci vediamo ciao 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 ciao